Anche il Comune di Pescara partecipa all'iniziativa nazionale del lanci contro il caro Bollette, situazione quest'ultima che sta mettendo in grave difficoltà imprese e famiglie, che sono alle prese con aumenti vertiginosi degli importi delle fatture per la fornitura di luce e gas. L'amministrazione comunale, per iniziativa del sindaco Carlo Masce e dell'assessore alle politiche energetiche Gianni Santilli, ha infatti disposto di spegnere questa sera, dalle 20 e per 30 minuti, le luci che abitualmente illuminano e offrono alla vista. La Torre Civica, il Ponte Flaiano e l'Aurum. Questa vicenda del costo dell'energia non soltanto sta mettendo in difficoltà tutti i cittadini, tutte le imprese, quest'aumento sconsiderato dei prezzi, ma sta mettendo in difficoltà, in grandi difficoltà, anche i comuni, anche gli enti locali, perché l'energia in città si consuma con le luci nelle strade, con i palazzi, con le scuole, con gli impianti sportivi e quindi noi partecipiamo a questa protesta civile spegnendo le luci in alcuni luoghi e palazzi simbolo come l'Aurum, come il Palazzo di Città e come il Ponte Flaiano. Ci saremo anche noi a questa manifestazione nazionale. Come amministrazioni locali cosa si può fare per andare incontro ai cittadini sotto questo punto di vista? Si può fare ben poco, purtroppo il costo dell'energia non dipende dai comuni, anzi i comuni subiscono il costo dell'energia. Anche noi avremo un aumento considerevole del costo della spesa legata all'energia che peserà sui bilanci del comune di Pescara come sui bilanci di tutti i comuni d'Italia. Io mi auguro che i prezzi tornino a scendere, tornino alla normalità, il momento è complicato, cerchiamo di difenderci ma le difficoltà ci sono.